La cosa di Cappello, però, è un allenatore che, nonostante abbia vinto meno diritti, come ho detto, perché non ha vinto il mondiale, però è un allenatore che molto probabilmente è più appetibile. Cioè, un presidente, Cappello lo vede in un modo differente. Cappello è colui che ha portato in Italia Ibrahimovic. Io che ho lavorato con Cappello molti anni, Ibrahimovic è sempre stato un pallino suo, fino a quando è andato a Juventus e riuscì a portarlo lì. Adesso, con questo cancan che si sta facendo al Mina, che mi sembra in una grande confusione, non so se, ad esempio, Cappello possa chiedere ad Ibrahimovic di portare Ibrahimovic a Cessi, potrebbe essere anche una cosa, non è questa?